Bentornati, in questa terza parte vorrei continuare la mia testimonianza sull'uso di Blender nella professione parlando della modellazione di precisione. Blender non è un CAD, però molte delle sue funzioni e alcuni dei suoi add-on riescono ad avvicinarlo molto all'essere un CAD. Il risultato, ad esempio, nell'architettura potrebbe essere quello di poterlo utilizzare per realizzare e disegnare delle piante e dei prospetti perfettamente in scala e con misure precise, non a occhio. Vi faccio, giusto per vedere, un esempio. Utilizzando la proiezione ortogonale è possibile creare dei prospetti che sono molto più significativi da mostrare rispetto a un disegno al CAD con dei retini o con delle indicazioni su quale materiale vogliamo mettere in un punto piuttosto che in un altro. Per farvi un esempio pratico, proprio per presentare a una commissione edilizia di un comune dove lavoro un progetto di ristrutturazione di una ex stalla fienile per un recupero ai fini abitativi, ho utilizzato Blender per creare questo prospetto. Ora, le informazioni che arrivano a chi deve esaminare questo progetto sono più immediate. È vero, io avrei potuto utilizzare i classici retini con delle freccette e dire qui voglio fare il rivestimento faccia vista, qui voglio utilizzare l'intonaco, scuro in legno con un certo colore, manzo di copertura in coppi, pannelli fotovoltaici, eccetera. Poi col CAD avrei potuto disegnare le ombre e tanti altri piccoli dettagli. Blender mi ha permesso di realizzare questo prospetto in tempi non eccessivamente lunghi, perché alla fine una volta create le piante col CAD e utilizzando gli strumenti messi a disposizione, il risultato ottenuto mi ha richiesto una mole di lavoro accettabile per l'intento che volevamo ottenere. Quindi questo non è un rendering fotorealistico, non è un qualcosa di spettacolare, però è un elaborato tecnico che stampato in scala è un vero e proprio disegno, semplicemente ha una serie di dettagli maggiore. Questo lo porto ad esempio. Ma quali sono gli strumenti effettivamente che Blender ci mette a disposizione per modellare con precisione i nostri oggetti? Facciamo un esempio, partiamo da zero e proviamo a creare una piantina, come se fossimo al CAD. Normalmente quando si lavora in 2D non ha molto senso poter ruotare la vista. Con Blender possiamo semplicemente fissare una proiezione parallela, ad esempio una vista dall'alto, quindi premendo il tasto 7 e il tasto 5 per utilizzare una vista ortogonale, di fatto siamo in una visualizzazione molto simile a quella di un normalissimo CAD. Sarebbe magari interessante poter avere un pulsante o un'abbreviazione della tastiera che blocchi questa visualizzazione, in modo da non ruotare erroneamente, ma ci vuole poi davvero un decimo di secondo a premere il tasto 7 del tastierino numerico e ritornare alla vista attuale. Per quanto riguarda la visualizzazione, premendo il tasto Z si lavora in modalità wireframe e per quanto riguarda i dati geometrici, molte informazioni le abbiamo qui sulla destra. Cancelliamo il cubo di partenza e iniziamo facendo Shift A per inserire un semplice quadrato. Se vogliamo partire da un singolo vertice, possiamo selezionare tutto in Edit Mode, premiamo Alt M e selezioniamo Add Center. Così facendo abbiamo fatto implodere tutti i vertici al centro del nostro quadrato, quindi vediamo anche qua su in alto, abbiamo un vertice su uno selezionato. Da qui possiamo eseguire delle semplici estrusioni. Dobbiamo creare una linea? Perfetto, premiamo il tasto E, X per vincolare lo spostamento lungo l'asse omonimo, dopodiché diciamo di quanto ci vogliamo spostare, ad esempio 5 metri. Premiamo 5, invio. Abbiamo creato la nostra linea. In tempo reale possiamo visualizzare anche le dimensioni effettive di quello che stiamo facendo, facendo clic qui su Edge Info, in particolare su Length. Quando noi selezioniamo due vertici, vediamo che Blender ci dice che da questo vertice a questo vertice ci sono 5 metri. Andiamo avanti con la creazione della nostra piantina, sempre col tasto E per tracciare una linea, Y per vincolare lungo l'asse verticale e così via aggiungiamo il perimetro del nostro edificio. Adesso disegno una figura a caso, però sappiamo che inserendo i numeri precisi possiamo creare linee della dimensione esatta di come la vogliamo. Quindi mettiamo ad esempio 2,5 e X3 meno per andare nel senso opposto dell'asse e così via. Mettiamo per esempio che questo lato in realtà debba essere inclinato di 45 gradi. Perfetto, lo possiamo fare. Selezioniamo il punto di rotazione, Shift S, Cursor to Selected, poi selezioniamo anche l'altro vertice. Indichiamo a Blender che il pivot point, cioè il punto di rotazione, è il 3D cursor. E a questo punto effettuiamo una rotazione di 45 meno per indicare il senso anti-orario e quindi premiamo invio. Quindi adesso abbiamo una linea lunga esattamente quanto avevamo indicato e l'abbiamo ruotata di 45 gradi. Proseguiamo con il nostro perimetro, E, X. Diciamo che non vogliamo adesso inserire la misura precisa, ma vogliamo fare in modo che il vertice sia allineato esattamente al vertice di partenza. Senza sapere quanto questo debba essere lungo, premiamo un attimo ESC, annulliamo il comando e attiviamo lo snap ai vertici. Ripetiamo adesso E, X, per vincolarci lungo l'asse X e tenendo premuto il tasto CTRL andiamo a metterci sul vertice di riferimento. Vedete che Blender ci ancora a questo vertice. Per chiudere selezioniamo il vertice di partenza e premiamo F. Bene, abbiamo creato il nostro perimetro. Ora però i muri hanno uno spessore, diciamo che hanno uno spessore di 30 cm. Ci sono vari modi per poter fare questa operazione. Il più veloce penso che sia di selezionare tutto col tasto A, premere F per creare la figura geometrica, quindi premere il tasto I che sta per INSET. A questo punto premere 0.3 e premere INVIO. Passiamo in modalità di selezione facce, selezioniamo la faccia centrale, la cancelliamo con il tasto X e selezioniamo ONLY FACE. Abbiamo quindi il nostro muro che però è composto da tante facce. Adesso stiamo ragionando come un CAD e diciamo che in questo momento non ci interessa averle. Non c'è problema, le possiamo selezionare tutte. Premiamo X e selezioniamo ONLY FACE. Possiamo anche selezionare i vari spigoli, premere X, EDGE. Abbiamo quindi creato un muro perimetrale di 30 cm. Se per alcuni di voi sto andando un po' troppo veloce o non capite bene che comandi sto a utilizzare, probabilmente avrete bisogno di seguire prima il corso base che trovate sempre in questo canale. Quindi se fate un po' fatica a seguirmi, vi consiglio di seguire almeno le prime 10-15 elezioni di questo corso. Diciamo quindi che vogliamo aprire una porta a 60 cm da questo spigolo. Passiamo in modalità di selezione vertici. Selezioniamo questo vertice, premiamo il tasto E, Y, ci spostiamo in basso di una misura a caso. Selezione spigoli. Eseguiamo un'estrusione, tasto E, lungo l'asse X di meno punto 6. Quindi adesso abbiamo il punto di inserimento di questa porta a 60 cm. Eseguiamo un'altra estrusione di, mettiamo 90 cm che è la larghezza della porta, E- punto 6. E adesso andiamo a cancellare quello che non ci serve. Ad esempio queste due facce, poi possiamo cancellare questi spigoli. E ci rimane il buco della porta. Adesso dobbiamo però eseguire un taglio di queste linee. Anche in questo caso ci sono vari metodi, però c'è un add-on molto molto bello che si chiama Tinicad. Lo attiviamo cercandolo all'interno delle preferenze. Se non l'avete ancora scaricato lo potete fare cercandolo direttamente su Google. Non dovrebbe essere un problema trovarlo. E quindi lo potete installare come qualsiasi altro add-on. Parlo di add-on anche nel corso base. Comunque una volta installato, selezioniamo ad esempio due spigoli da tagliare, due linee. Premiamo il tasto W e selezioniamo la prima voce. Così facendo Blender ha già tagliato per noi tutte le linee. Ripetiamo la stessa operazione con queste due. W, Tinicad e la prima voce. Non ci resta che selezionare le linee che non ci interessano. Premere X e selezionare Edge. Questa è rimasta perché probabilmente è doppia. Non è un problema. Possiamo anche fare così. Selezioniamo, proviamo a cancellarla e la ricostruiamo al volo. Ecco fatto. Non è immediato come un CAD, vero. Però la funzionalità c'è. Bisogna solo prenderci un po' la mano e si arriva anche ad essere veloci. È molto importante imparare l'abbreviazione della tastiera. È molto importante fare della pratica. Comunque personalmente io ancora uso un CAD esterno. Però volevo farvi vedere come Blender comunque può eseguire operazioni di precisione. Proviamo adesso a inserire una finestra. Magari proprio al centro di questa parete. Utilizziamo il comando CTRL R. Vedete che si crea un vertice color fucsia. Se utilizziamo la rotella del mouse possiamo aumentare il numero di divisioni. A noi adesso interessa una sola che è il centro della stanza. Questo vertice poi lo estrudiamo lungo l'asse X e rieseguiamo la stessa procedura di prima. Quindi selezioniamo la nostra linea. Facciamo finta che la finestra debba essere larga 1,20 m. Quindi eseguiamo un'estrusione lungo l'asse Y di 0,6. Un'altra estrusione lungo l'asse Y di meno 0,6. Andiamo a cancellare tutto quello che non ci interessa. Quindi proviamo a utilizzare di nuovo l'add-on Tinicad. Purtroppo non ci consente di farlo con più linee contemporaneamente. Quindi dobbiamo farlo due alla volta. Naturalmente per velocizzare potremmo anche andare nelle preferenze di Blender e assegnare un'abbreviazione della tastiera proprio per quel comando di Tinicad. Quindi velocizzeremmo moltissimo le operazioni. Se adesso volessimo invece trasformare questa nostra pianta in un elemento 3D, potremmo farlo abbastanza in fretta. Allora, selezioniamo tutto e premiamo il tasto F. Quindi abbiamo già creato le pareti. Premiamo il tasto E per l'estrusione. Diciamo che vogliamo creare un ambiente alto 2,70 m, quindi 2,7 m. La porta è alta 2,10 m, quindi CTRL R, CTRL R, che è lo stesso comando che abbiamo utilizzato per aprire la finestra al centro della parete. Facciamo clic, ci abbassiamo tutto in basso e poi ci rialziamo di 2,10 m. Di nuovo CTRL R, ci abbassiamo tutto in basso e ci rialziamo. Possiamo scrivere 2,1 oppure possiamo premere il tasto CTRL e allinearci al vertice già utilizzato. Estrudiamo anche questa faccia contro quest'altra. Passiamo in modalità di selezione vertici. Selezioniamo tutto e facciamo clic su Remove Double. Facendo così abbiamo rimosso i vertici duplicati che non ci servono. Anche questa faccia interna non serve a nulla, quindi la possiamo cancellare. CTRL R, ci mettiamo tutto in basso e poi ci rialziamo di 1 m per il parapetto, visto che è una finestra, creiamo la faccia, la estrudiamo. Andiamo a eliminare le facce che non ci interessano. Per quanto riguarda la parte superiore, abbiamo fatto un ambiente alto 2,70 m. Mettiamo che vogliamo fare una finestra alta 1,50 m, ci dobbiamo abbassare di 20 cm. Creiamo una linea col tasto F, estrudiamo verso il basso, 0,2 m, per scendere. Quindi estrudiamo lungo l'asse X, ci ancoriamo qui e torniamo a estrudere verso l'alto. Continuiamo a cancellare le facce che non ci interessano, se ci sono, direi di no. Premiamo il tasto Z per tornare in Vista Solid. Selezioniamo tutto, CTRL N per ricalcolare le normali. Qui c'è rimasto un buco. Ed ecco che abbiamo creato la nostra stanza. Naturalmente ci sono vari modi di lavorare, questo è solo un esempio veloce. Quello che voglio comunque passare è il messaggio che Blender può essere utilizzato per modifiche precise e non solo a occhi. Con questa vista è possibile creare un prospetto, con la vista ortogonale, con lo stesso concetto del prospetto che vi ho già fatto vedere e volendo si può anche creare una sezione. Questo non è molto semplice, cioè questo non è un'operazione molto immediata. Io di solito mi creo un duplicato dell'oggetto per essere sicuro di non dover poi rifare tutto da capo. Dopodiché ci sono vari metodi, uno di questi è utilizzare un modificatore booleano. Inseriamo per esempio un cubo, scaliamo in modo che sia particolarmente grande, questo ci farà da linea di sezione. Diciamo che vogliamo sezionare la casa in questo punto qui. Selezioniamo le pareti, andiamo ad aggiungere un modificatore boolean, selezioniamo come altro oggetto il cubo, dopodiché ecco la nostra sezione. Se volevamo invece far vedere l'altra parte della casa è sufficiente spostare il cubo e quindi ripetere l'operazione. Una volta nascosto il cubo abbiamo la sezione. Proviamo un attimo a immaginare il procedimento inverso all'importazione del DXF. Diciamo che vogliamo esportare questa sezione. I formati che abbiamo a disposizione come esportazione sono il Collada e l'FBX che sono diciamo i più compatibili con altri software. Abbiamo visto per esempio che il Collada viene importato anche molto molto facilmente anche da SketchUp. Abbiamo anche la possibilità di esportare in DXF, tuttavia l'add-on per esportarlo è in fase di costruzione. Sembra che non sia mai stato completato. Facciamo una prova di esportazione. Andiamo nei modificatori, applichiamo il boolean in modo da rendere permanente la sezione. Quindi facciamo File Export DXF. Vediamo se funziona. Per fare questa prova userò DraftSite, un CAD molto simile ad AutoCAD, non open source ma gratuito. C'è la versione gratuita, quindi se volete provarlo basta scaricarlo previa registrazione. Ed ecco il risultato dell'importazione. Quindi diciamo che da Blender possiamo tornare indietro. Ovviamente noi potremmo volere solo la pianta in 2D e quindi proviamo un attimo a annullare l'operazione di applicazione del modificatore, lo cancelliamo, passiamo in Edit Mode, selezioniamo tutto e scaliamo lungo l'asse Z, quindi SZ con un valore pari a 0. Facendo così abbiamo compresso tutti i vertici a terra. Ora non ci resta che eliminare le facce indesiderate. Premiamo X Only Face, riselezioniamo tutto e facciamo Remove Double, abbiamo tolto ben 62 vertici. Andiamo quindi ad esportare nuovamente il DXF. File Export DXF. Torniamo in Draft Site ed ecco che abbiamo importato la nostra pianta in un CAD. Naturalmente la stessa operazione la possiamo fare per i prospetti, per le sezioni e così via. Bene, per questa terza parte è tutto, io vi ringrazio come sempre di avermi seguito e ci rivediamo presto.